La notte vi girate e rigirate cercando una posizione comoda per dormire? Sbattendo le ginocchia provate dolore? Anche la schiena e le anche vi fanno male e vi svegliate doloranti? Dal primo produttore al mondo specializzato in sistemi di riposo vi presentiamo il cuscino Contour Legacy, l'unico disegnato ergonomicamente per adattarsi naturalmente al contorno di gambe, ginocchia e cosce, così da allineare la colonna vertebrale eliminando i dolori. Quando dormite su un fianco la gamba si sposta in avanti ruotando il bacino e la parte inferiore della schiena, mettendo sotto pressione la colonna vertebrale, le anche il nervo sciatico, provocandovi dei forti dolori. Ma il cuscino Contour Legacy, ammortizzando il peso delle ginocchia, impedisce che ginocchia e gambe si spostino in avanti. Non solo, rialline anche la schiena e al risveglio vi sentirete meglio e più riposati. Grazie al cuscino Contour Legacy viene ristabilito il naturale allineamento della spina dorsale, scompare il dolore e la pressione e finalmente vi potete concedere un sonno lungo e profondo. Dieci anni fa ero al lavoro mentre ero in classe e mi sono provocata un grave trauma alla schiena. Il dolore era fortissimo, il peggiore che si possa immaginare. Io ero arrivata al punto di non riuscire più a dormire, non riuscivo a muovermi, non potevo più fare nulla per stare bene. La prima volta che ho provato il cuscino Contour Legacy è stato un vero sollievo. Ho scoperto un nuovo modo di dormire, al risveglio non ho più sentito nessun dolore, era come se per la prima volta avessi potuto veramente dormire. I vecchi cuscini sono grossi ed ingombranti e si intrappolano tra le lenzuola, ma la forma anatomica del nuovo cuscino Legacy si conforma perfettamente al corpo. Ne puoi anche usare due per un allineamento completo delle gambe. Ha una speciale ventilazione che lo mantiene sempre fresco e asciutto. Con la sua forma a mezzaluna si inserisce perfettamente tra le gambe e si muove facilmente con te. I cuscini tradizionali si schiacciano. Il cuscino Legacy è fatto in memory foam ed è inoltre lavabile in lavatrice. In un recente sondaggio fatto ai clienti emerge che chi lo ha usato è riscontrato una riduzione del mal di schiena del 50%, una riduzione del dolore da sciatalgia del 67%, riduzione del dolore alle ginocchia del 67% e una riduzione del dolore alle anche del 71%. Se non hai mai dormito con un cuscino tra le gambe non puoi immaginare i benefici che ti può dare il Legacy Pillow. La scorsa estate ho avuto treni al disco e avevo molta difficoltà a dormire. Sono andata da un fisioterapista, mi giravo, rigiravo nel letto e non riuscivo ad addormentarmi perché non trovavo una posizione che mi facesse dormire. Da quando ho iniziato ad usare il cuscino con Tour Legacy ho visto subito come si adattava naturalmente alle mie gambe. Ho sentito come se facesse parte del mio corpo. Mi ha immediatamente allineato la colonna vertebrale. Non sentivo più dolori e adesso ci metto molto meno tempo ad addormentarmi.